Sarebbe stato vittima di continue vessazioni preso di mira da un gruppo di giovani, molti ancora minorenni, un anziano che vive nella zona di San Giacomo. Nonostante le precarie condizioni psichiche, ha però denunciato quanto gli sarebbe accaduto. È partita un'indagine dopo che i polizzotti del commissariato hanno identificato i possibili responsabili. L'abitazione dell'uomo sarebbe finita nel mirino del gruppo, addirittura più volte danneggiata a colpi di pietra. Gli avrebbero reso la vita impossibile. Molti degli indagati sono stati sentiti davanti agli inquirenti. Quelli identificati hanno però negato di essere dietro alle vessazioni patite dall'anziano, che è già costretto ad una quotidianità piuttosto difficile. L'indagine è attualmente in corso durante i sopralluoghi nei pressi dell'abitazione. Sono state individuate pietre e oggetti contundenti che sarebbero stati scagliati contro l'ingresso dell'immobile. La vittima avrebbe raccontato di aver subito anche danni fisici. Sarebbero coinvolti pure alcuni maggiorenni. I minori invece hanno dato mandato ai loro legali di difesa che li assisteranno. Si tratta degli avvocati Giacomo Ventura, Carmelo Tuccio, Salvo Macri e Angelo Caffà. Le presunte vessazioni sarebbero andate avanti per diversi mesi, fino all'intervento degli agenti di polizia, che hanno iniziato ad identificare alcuni dei presunti responsabili, tutti giovani legati da uno stesso gruppo di conoscenze.